Innanzitutto volevo complimentarmi con te perché se sei arrivato fino qui vuol dire che sei davvero interessato ad ascoltare quello che ho da dirti. Oggi ti voglio parlare della diagnosi energetica e del perché conviene farla. La diagnosi energetica è una procedura sistematica volta a conoscere il profilo di consumo energetico della tua azienda o del tuo impianto produttivo con uno scopo molto semplice, individuare le opportunità di risparmio economico sui consumi dell'energia. L'articolo 8 del decreto legislativo 102 del 2014 obbliga le grandi imprese con più di 250 dipendenti e determinate altre caratteristiche o le aziende a forte consumo di energia, che consumano più di 2,4 gigawatt ora di energia, ad effettuare la diagnosi per obbligo di legge. Ma probabilmente tu non rientri in una di queste categorie. Ma non importa, io voglio parlarti lo stesso di questa grande opportunità. Noi di Egeco Energy abbiamo deciso di dare una grande opportunità agli imprenditori che hanno voglia di risparmiare sui costi dell'energia. Lo sapevi che implementando un sistema di monitoraggio puoi risparmiare almeno da un 10% in su sui costi di energia? Vuoi sapere come? È semplicissimo. Compila la richiesta che trovi all'interno di questa pagina e i nostri tecnici ti contatteranno per darti gratuitamente tutte le informazioni possibili al fine che tu possa decidere e capire veramente qual è il modo giusto per risparmiare sui costi di energia, ma non solo di energia elettrica, anche di gas, aria compressa, acqua e molti altri vettori che probabilmente già tu stai utilizzando. Ti aspettiamo, compila la richiesta. Ciao!